Luca Pretta, ma voglia Filippo Pianosi, di solito sì sì sì, l'avevo capito, l'avevo capito. Sai, anch'io sono un po' approvato nell'avervi visto giocare contro dei campioni così, sì, non ero abituato. Hai fatto più fatica tu di noi? No. No, noi siamo stanchissimi, abbiamo giocato una partita contro grandi giocatori e ci siamo divertiti molto, bello? Sì sì, assolutamente ci siamo divertiti, è stata molto dura, è stata molto dura, però ce l'abbiamo messa tutta. Parlavamo, la musica abbinata al calcio, cosa rappresenta per voi? Per quanto mi riguarda rappresenta un'opportunità, ho sempre giocato a calcio, quindi quello che io non riesco a fare con la musica mi piace sfogarlo nel calcio. Per me è sempre una bella esperienza. Tu domattina sei impegnato? Io domani mattina sono impegnato, presento il mio himno della NAIA, Nazionale Artista e Indipendenti Associati, alla FICO World Italy di Bologna, quindi sarà bellissimo. È bello anche unire musica e calcio, sono due passioni, quindi immagina quando due passioni così forti si uniscono cosa viene fuori, una cosa, una bomba. Carlino ha promesso di darti una bella pagella.